L'intero compresso occupa un'area di circa 350.000 metri quadrati. I giocati si trovano davanti alla costa, a soli 800 metri dai palazzi con gli uffici. Potremmo coprire la distanza a piedi, ma il tempo a disposizione è poco e prezioso. Per ovvie ragioni di sicurezza la permanenza nell'area dell'incidente è ridotta al vivo. E se pensate di potervi muovere liberamente, avete sbagliato questo. Fukushima è ancora lontana dal diventare una meta turistica come c'è il mobile.